L'Associazione Lagorà di Giarre si conferma centro di incontri e dibattiti culturali quanto mai attuali. Omosessualità e omogenitorialità sono stati i temi discussi nel corso dell'ultimo di questi incontri, svoltosi nei giorni scorsi nella sede dell'Associazione. Relatore lo psichiatra e psicoterapeuta Gaetano Sisalli. La genitorialità degli omosessuali sempre più in crescita grazie alla tecnica della procreazione assistita divide la società. Le ricerche però dimostrerebbero che le resistenze mostrate verso questa nuova concezione di famiglia non sono supportate da dati concreti. Spesso l'atteggiamento di chiusura mostrato è solo conseguenza di una mancata conoscenza di quella realtà. Il tema, affrontato per la prima volta a Giarre, ha coinvolto i presenti. Questo argomento è di grande importanza, di grande attualità. È stato oggetto di discussioni in molte tavole rotonde, in molti posti. Quindi pensiamo che a Giarre fosse giunto il momento opportuno proprio per affrontare questo argomento.